Musica La zona di Chiaruccia come sede dell'ospedale unico. A presentare l'ultima delle sei proposte di area su cui realizzare la nuova struttura ospedaliera è stata la Giunta Fanese che nei giorni scorsi ha incontrato il primo cittadino pesarese Luca Ceriscioli e l'assessore regionale della sanità Almerino Mezzolani. Il Comune di Pesaro ha preso atto che con coraggio, ripeto, i 22 sindici hanno fatto una proposta e a sua volta ha fatto altre quattro proposte e tra l'altro in alcuni di questi luoghi ci sono terreni completamente pubblici. Il Comune di Fano si è sentita in dovere di dovere a sua volta proporre un luogo interamente pubblico anche per togliere alibi a chi dice che vorremmo andare a fare speculazioni da qualche parte. Vi proponiamo anche questa località, quella di Chiaruccia con forza, perché è una località interamente pubblica di proprietà del Comune di Fano, 30 ettari, serviti molto bene perché c'è l'autostrada, la superstrada e l'aeroporto a ridosso. Bari centrici perché rispetto al numero di abitanti, la località è baricentrica, la vallata del Metauro e del Cesano ha circa 150 mila abitanti circa. È ovvio che adesso si apre il tavolo della discussione rispetto a questo tema. L'amministrazione ha anche evidenziato l'esigenza della realizzazione a Fano di una residenza sanitaria assistenziale. Stiamo lavorando, abbiamo anche qui terreni a disposizione di proprietà comunale, abbiamo valorizzato dei beni dell'ASUR, della Regione Marche, perché siano appunto valorizzati, quindi venduti per ottenere i soldi per costruire l'RSA. Ho avuto modo di incontrare la scorsa settimana, due settimane fa, in Regione alcuni esponenti per capire un po' anche gli umori. La Regione Marche mi dicono che stia pensando seriamente di realizzare non solo l'RSA di Fano, ma anche altre RSA, perché i costi e i risparmi che ne deriverebbero dai ricoveri in RSA sarebbero maggiori rispetto ai ricoveri in ospedale. Mi auguro che nelle prossime settimane o nel prossimo mese si possa ottenere qualcosa di concreto, fermo restando che noi abbiamo un protocollo d'intesa firmato dal sindaco di Fano e dall'assessore regionale e dal dirigente regionale, nel quale la Regione insieme al Comune si impegnavano nel giro di breve a fare l'RSA.